Iniziata dal Francesco Paolo Merendino di Capodorlando, l'avventura calcistica della città di Sant'Agata. Ancora non si sa se la squadra sarà nel prossimo anno in competizione nel campionato di Serie D o nel campionato di eccellenza. In ogni caso la dirigenza ha affidato la squadra ad un allenatore che certamente non ha bisogno di presentazioni. Antonio Venuto. Cominciamo questa stagione indipendentemente dalla categoria con un grande entusiasmo sia da parte mia, da parte dei ragazzi che fanno parte, che cominciano a far parte di questa famiglia e soprattutto un grandissimo entusiasmo da parte di questi dirigenti che si stanno dimostrando veramente incomiabili perché di anni e anni riescono a fare sempre meglio e hanno sempre più entusiasmo e oggi nel mondo del calcio non è facile trovare questi ambienti. Aspettiamo il risponso di questi ripescaggi, aspettiamo con ansia, con trepitazione però allo stesso tempo questo non ci deve portare fuori strada. Noi dobbiamo cominciare la preparazione, abbiamo già una base d'organico che può essere importante sia nel campionato d'eccellenza che nel campionato di Serie D. Certamente diciamo che gli obiettivi di rifinitura dell'organico possono cambiare in base alla categoria dove ci troveremo. Per quanto riguarda il Fresina noi abbiamo avuto rassicurazione da parte della ditta e da parte dell'amministrazione comunale, si stanno impegnando entrambe in tutti i fronti noi pensiamo, da quello che ci ha detto l'amministrazione, pensiamo che potrebbe essere omologato il campo intorno al 15-20 settembre, dunque in un campionato o nell'altro diciamo che dovremmo perdere al massimo due giornate in casa. Per quanto riguarda il discorso Serie D eccellenza? Per quanto riguarda le preparazioni no, perché il mister dà la stessa impronta come preparazione. Per quanto riguarda l'organico chiaramente sono due cose distinte e separate, mentre in Serie D gli under che giocano sono quattro e dunque la rosa dei giovani deve essere sicuramente sulle 12-13 unità. Per quanto riguarda invece l'eccellenza c'è bisogno di qualche grande in più e qualche junior in meno. Dunque per questo ancora diciamo che non abbiamo la rosa al completo. Grazie.